Nel biennio 2020-2022, nei due anni più acuti della pandemia, in Sardegna sono state presentate all'Ina il 5.398 denunce di infortuni sul lavoro da Covid, numero che rappresenta l'1,7% dei casi riscontrati in tutta Italia. 10 di queste denunce hanno riguardato infortuni mortali che incidono per l'1,1% sulla casistica a livello nazionale. A denunciare sono state soprattutto le donne, il 67,3%. In testa c'è la provincia di Cagliari con il 41,9% dei casi seguiti ad Assassari con quasi il 30%. Quasi l'80% delle denunce interessa il settore sanità e assistenza sociale, dunque ospedali, case di cura e di riposo, cliniche e policlinici universitari, infermieri e ossa, ausiliari e ospedalieri, le categorie professionali più colpite che sono anche quelle più esposte al contagio. Ammontano invece a 14.179 le denunce presentate nel 2022 per infortuni non legati al Covid, di cui 1.340 in itinere, cioè avvenuti durante il tragitto per arrivare al luogo di lavoro. 11.162 infortuni sono stati denunciati nel settore industrie e servizi, 1.806 nelle amministrazioni pubbliche, 1.211 in agricoltura. Quanto alla distribuzione geografica delle denunce, 4.925 sono a Cagliari, 4.143 a Sassari, 2.254 nel sud Sardegna, 1.615 a Nuoro, 1.242 a Oristano. 24 gli incidenti mortali, di cui 8 in itinere, concentrati soprattutto nel settore industrie e servizi e, in tre casi, in agricoltura. La distribuzione per genere rivela che a morire sono soprattutto i maschi, 23 casi su 24. 8 morti bianche si sono verificati a Sassari, 7 a Cagliari, 4 a Oristano, 3 a Nuoro e 2 nel sud Sardegna. Sempre nel 2022 l'INAIL Sardegna ha ricevuto 5.110 denunce per malattie professionali, di cui la stragrande maggioranza sono presentate da lavoratori di sesso maschile. In cima alle patologie sviluppate a causa del lavoro, le malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo, seguite dalle malattie del sistema nervoso.